che cazzo ha fatto di noia pronto e la rete, la rete, mi deve andare a linea proprio quando il Peluccia tasse in vantaggio ha segnato proprio lui, Francesco Nicastro, l'uomo che Bucchi ha pensato che potesse essere l'arma segreta per scattivare il bunker russo, noi descriviamo un'azione, c'è stato un lancio da Nelettropie, un cato sulla destra da Pinoli, da Pinola, il cross di imprese è deciso e arriva dalla gran partiera di sinistro, Nicastro l'ha messa dentro, questo può essere un gol importantissimo, sia per il meno personale